Autorizza di usare la mia testimonianza per promuovere il metodo del reticolo. Mi chiamo Francesca Romeo, sono laureata in architettura, specialista del Stato dei Movimenti, ho fatto un attore di erotica, e anche una volontaria animalista e antispecista, attivista. Ho conosciuto questo metodo perché una mia amica su Facebook ha postato un link alle pagine del sito internet del metodo di cui io sono andata a curiosare e ho voluto vedere che cos'era perché mi ha conquistato soltanto la discussione che questa amica fece su un post di Facebook riguardo al metodo. Ho deciso di fare il master all'ultimo momento, sono stata immioccolata perché mi è stato dato il permesso di farlo, ma mi era già postata ed era prioritario, quindi non avevo dubbi. Sono venuta qua con mia carissima minchia adorata che mi ha dato tantissimo in questi giorni. Ho imparato tantissime cose che mi hanno accanto alla mente. Ho imparato come essere autonoma nel comunicare con il mio inconscio, nel comunicare con me stessa quello che io sono veramente, per riuscire ad avere un accesso anche, diciamo, facilitato alla mia situazione di salute, sia mentale, sia fisico, sia emotivo, che per me è molto importante perché spesso mi faccio forviare da tanti amostendi che mi ha distraverso il stile. I miei obiettivi sono riuscire a raggiungere una pena, pensatevole, più di me stessa, di quello che sono venuta a fare qua. E siamo sicurissima che già ne ho avuto molte risposte e sono sicurissima che riuscivo a arrivare a quello che esiste. Così è sicuramente a un sacco di persone di venire a fare i corsi e anche soltanto di guardarli in video su internet perché sono meravigliose le persone che ne ho fatti e sono rivelate ancora meglio delle mie aspettative quando le ho conosciute di persone, sia diciamo i docenti che facendo parte dello staff, sia altre persone che hanno partecipato anche come allievi. Mi hanno dato un'energia enorme che è effettivamente l'energia che io andavo a cercare da tanto tempo e sono trovato qua. L'ultima cosa che voglio dire è che l'ultima cosa che ho provato di mettere qui sono le biotecnologie logistiche che hanno avuto un successo enorme su di me e anche su un animale che sta curando e le intenzioni nel farlo stare meglio ha raggiunto dei miseramenti riguardo al suo stato di salute che sono enormi. Quindi se funziona sulle persone funziona anche sugli animali e chiunque le voglia usare in questo modo mi riconsiglio al 100%. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.